Questo tragico evento che ha unito tutti i coreani nel dolore confermi il loro impegno a collaborare insieme, solidali, per il bene comune. Il naufragio del traghetto di Sewol ha costato la vita a 303 persone, è stato al centro dell'Angelus guidato da Papa Francesco dopo la Santa Messa nella solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria. La vicinanza del pontefice ha trovato il suo contrapunto anche nell'incontro con un gruppo di 10 persone, tra cui alcuni superstiti. Insieme con loro, uno dei genitori dei ragazzi tragicamente scomparsi, che ha compiuto un pellegrinaggio di 900 chilometri portando con sé una croce e che ha chiesto a Papa Bergoglio di essere battezzato. La richiesta del signor Ali Hojin è stata prontamente accolta dal pontefice, che dopo essersi consultato con il vescovo della diocesi De Jong, ha introdotto l'uomo nella grande famiglia di Dio la mattina del 17 agosto nella cappella dell'Annunziatura. Un segno di grazia per una persona e di consolazione per un popolo intero.